Grandi! Ho pieno di sigla per voi, è indirizzata al popolo italiano del 97, a quegli squisiti amici della musica come voi siete. Non si è mai sicuri di niente, è su questa regola che ho basato un po' tutta la mia vita. Non dare mai nulla per scontato, indentandoli i giorni, accroccandoli, travestendoli e truccandoli, spesso anche pesantemente, come per esorcizzare la paura di risvegliarmi piatto, incolore, superato, o peggio ancora, per assegnare. Oggi per me questa è una piazza importante in tutti i sensi, come per tutti coloro che hanno trascorso la maggior parte del tempo in piazza, avviso scoperto, senza segreti, crescere lavorando, lavorando per crescere, e poi incontrare, amare, ridere, ribellarsi, ricredersi e sperare. Offrirsi, credo sia fondamentale, offrirsi comunque distinto a qualunque costo, offrirsi senza riserve, né calcoli, né ripensamenti, ci si può sentire ricchi anche per questo, felici anche per questo. Spero che le mie canzoni si comporteranno bene stasera, che riusciranno ad essere convincenti e sincere, come quando le incontraste quella famosa prima volta. E la mia voce è in grado di trasmettervi tutta la gratitudine per l'amore che grazie a voi ancora porto dentro. Noi ci siamo tutti, e siamo davvero più veri di ieri, e io dico a voi, a voi indifferenti, a voi che non ci conoscete bene, prestateci un sogno, lasciateci ancora sperare, perché questa notte sia eterna, perché sia una notte. Definitivamente nostro, Renato Zero.